In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere le migliori saponette naturali. Per un'igiene corporea profonda ma al contempo delicata, la saponetta naturale può essere un'alleata preziosa. È adatta principalmente per lavarsi le mani, ma può essere usata senza problemi per il viso e il resto del corpo. Si tratta di saponi realizzati esclusivamente con ingredienti naturali, evitando parabeni, coloranti artificiali e tante altre sostanze chimiche che potrebbero risultare nocive a lungo andare. Chi ha la pelle delicata potrebbe infatti soffrire di allergie o irritazioni a causa di esse. La scelta delle saponette naturali è molto vasta, infatti se ne trovano con tanti ingredienti, principalmente piante, fiori e frutti. Questi non solo danno la profumazione, ma offrono le loro proprietà benefiche e ognuno di essi si adatta a un tipo specifico di pelle.